I colloqui fiorentini ripercorrono, anno dopo anno, i maggiori autori della letteratura italiana. Promossa da vent'anni da DS Firenze e Toscana, con il patrocinio degli enti pubblici locali, i colloqui si svolgono tradizionalmente con una preparazione a scuola e con alcune giornate d'incontro a Firenze. L'edizione 2020-2021, dedicata a Dante Alighieri, si è svolta in streaming e ha ottenuto la straordinaria partecipazione di oltre mille studenti e 180 docenti da 90 scuole italiane nell'anno della didattica a distanza. Abbiamo deciso di riprovarci, di ripartecipare perché l'anno scorso abbiamo visto come sia stato bello conoscere un autore da un diverso punto di vista, che non è quello classico della scuola, ma è conoscendolo direttamente attraverso le sue opere. Nei quattro giorni dei colloqui gli iscritti hanno ascoltato docenti e studiosi affrontare il tema Ma per trattar del ben chi vi trovai e hanno presentato centinaia di elaborati fra tesine, testi di arte e di narrativa. Cinque studentesse della terza B del liceo classico Marconi del Pino di Chiavari hanno vinto il primo premio per la narrativa con la storia di Muna, immigrata afghana che, uscita dall'inferno della guerra e del viaggio disperato e abbandonata alla madre, ritrova a Roma il suo amico Adi. Sicuramente la cosa che mi è rimasta più impressa è stata la speranza, perché io inteso anche il viaggio di Dante, almeno da quello che sto studiando, adesso noi stiamo facendo l'inferno, con una sorta di speranza verso il paradiso, verso una luce. Come Muna dall'Afghanistan è riuscita poi ad arrivare in Italia con l'aiuto del suo Virgilio e poi finalmente con la sua Beatrice, quindi sicuramente la speranza è il tema che li accomuna principalmente. Ma soprattutto nei colloqui i ragazzi e le ragazze hanno incontrato il grande poeta e si sono confrontati con la Divina Commedia, accumunati dalla sua selva oscura e dalla nostra, la pandemia, che ha obbligato queste studentesse non solo a seguire i colloqui da casa, ma anche a lavorare al loro racconto a distanza. Siamo riuscite comunque a lavorare bene insieme, rimanendo comunque unite e fare un progetto come se fossimo una fianco all'altra. Soprattutto questa esperienza ci ha insegnato il fatto che la scuola non è affatto morta, anzi, devo dire che sta molto negli alunni perché comunque devono essere loro i primi appunto a tenere vivo quella bella sensazione comunque di stare a scuola a contatto con le persone, di ascoltare.